A questo Bari non piace vincere facile, l'ennesima conferma è arrivata nel pomeriggio di Ferrara concluso con una vittoria per 4-3 che ha permesso di tornare al successo in trasferta a quasi due mesi dall'ultima volta risalente all'8 dicembre sul campo del Cittadella e di fare tre passi preziosi per consolidare la zona playoff e ritrovarsi complici le sconfitte di Genoa e Regina contro Parma e Palermo a meno 4 dalla promozione diretta, istantanee di un pomeriggio folle, quello del Mazza diviso tra la prima ora di gioco con il Bari avanti 3-0 e pienamente padrone del campo grazie ai centri di Foloruncio ed Esposito alla prima Gioia e Biancorosso e del solito che Dira è l'ultima mezzora abbondante, frazione di gioco in cui la SPAL rigenerata anche dall'ingresso in campo dello spauracchio Nainggolan è riuscita a segnale tre reti tornando in gara anche dopo il provvisorio 4-1 di Antenucci tornato a sua volta al gol dopo quasi quattro mesi e a mettere paura di Cesare e compagni con il forcing finale. Il gruppo di Mignani torna dall'Emilia con tre punti in tasca, il dato di miglior attacco del torneo è la certezza che in B occorre stare sul pezzo in ogni istante altrimenti gli avversari sono pronti a punirti. I punti totalizzati in trasferta sono così 22 a fronte dei 14 totalizzati in casa, bottino da incrementare con un doppio turno al San Nicola da vivere, domenica 12 arriva il Cosenza, sabato 18 il Cagliari, un'altra doppia prova della verità da sfidare se possibile con qualche brivido in meno rispetto a quanto accaduto a Ferrara.